Marica Pellegrinelli si appresta a diventare madre per la terza volta, questa volta con il suo compagno William Gioco. Attualmente in dolce attesa, la celebre modella sta godendosi la gravidanza insieme al suo primogenito Gabriel Tullio, frutto della relazione precedente con l'ex marito Eros Ramazzotti. Sono stati i fotografi del magazine chi è immortalare il loro momento durante una passeggiata per le vie di Milano. Marica Pellegrinelli si prepara ad accogliere il suo terzo figlio. Dopo aver dato alla luce due bambini dalla sua precedente unione con Eros Ramazzotti, ora è felicemente incinta del suo primogenito con il compagno William Gioco, noto DJ olandese. Come annunciato dalla stessa alla rivista Grazia, la piccola arriverà nel mese di maggio. Nel frattempo, la futura mamma si gode la gravidanza in compagnia dei suoi figli, dedicandosi al benessere della sua famiglia. Marica Pellegrinelli, in dolce attesa, si gode una passeggiata con il suo figlio Gabriel Tullio il magazine che ha immortalato Marica Pellegrinelli mentre passeggiava con il suo figlio minore Gabriel Tullio, avuto dalla sua precedente relazione con Eros Ramazzotti. Tenendosi per mano, madre e figlio si godono un momento di relax per le strade di Milano, probabilmente diretto verso la scuola o semplicemente per trascorrere del tempo insieme in modo spensierato. La futura mamma indossa un abbigliamento confortevole, composto da jeans aderenti, un cappello e un ampio maglione con cappuccio. In una delle immagini, si può notare Marica che accarezza dolcemente il suo pancione, ormai visibilmente prominente al settimo mese di gravidanza. L'attesa per l'arrivo del suo terzo figlio, o meglio della sua terza figlia, è sempre più breve. La nascita è prevista per il mese di maggio, e si sa già che sarà una bambina, il cui secondo nome sarà Vilelmina, il primo non è ancora stato rivelato. Immagine tratta dal magazine Chi la terza gravidanza di Marica Pellegrinelli e il suo rapporto con l'ex Eros dopo mesi di speculazioni, è finalmente arrivata la conferma ufficiale della gravidanza di Marica Pellegrinelli, la sua prima con il compagno attuale, Gioco, con cui è legata da circa due anni. La modella è già mamma di due bambini, Gabrieo Tullio e Raffaella Maria, avuti dal suo precedente matrimonio con Eros Ramazzotti. Il loro rapporto è stato oggetto di molte discussioni, specialmente dopo le recenti dichiarazioni della modella a Grazia, in cui ha rivelato che al tempo della loro relazione, Eros era in gravi difficoltà finanziarie.